Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il Tg10. L'apertura del telegiornale oggi è dedicata all'arrivo a Gela delle reliquie di Santa Rita da Cascia. Emozione tra i fedeli per la Santa delle cose impossibili. Vediamo. Grande emozione ieri a Gela per l'arrivo delle reliquie di Santa Rita da Cascia. Tanti fedeli che venerano la taumaturgica Santa si sono dati appuntamento nella parrocchia Santa Maria di Betlemme. Erano presenti autorità politiche, civili e militari. Il reliquiario quest'anno sta visitando le chiese dove è presente la devozione alla Santa delle cose impossibili. E' un evento storico per la nostra città, per il nostro vicariato in quanto si tratta delle insigne e reliquie di Santa Rita che vengono direttamente dal monastero, sono le uniche al mondo. Tra l'altro è un reliquario molto particolare che l'artista è riuscito a sintetizzare anche quella che è la fede, la devozione e i miracoli che lei ha chiesto al nostro Signore per il popolo di Dio. E' un evento particolare per il nostro vicariato, per la città di Gela. Inizia quest'oggi dalla parrocchia di Santa Maria di Betlemme, dalla periferia e poi andrà in centro dove nella chiesa rettoriale è custodito il culto della tradizione nella nostra città. E' un momento forte per il giubileo indetto dal Santo Padre perché questi momenti servono a riscoprire le nostre tradizioni, quello che è la ricchezza e il patrimonio della Chiesa. La comunità è stata preparata a questo evento? Come ha accolto la giornata? La comunità accoglie questo evento suordinario già da un mese che ci prepariamo, da quando è iniziato l'anno pastorale, nella settimana pastorale, per poter accogliere non soltanto con la festa esteriore, per quello che è possibile alle capacità umane, ma soprattutto accogliere con lo spirito questo evento di rinnovamento e di invocazione di misericordia per intercessione di San Rita. Oggi le reliquie saranno accolte nella piccola Casa della Misericordia, Istituto Regina Margherita. L'appuntamento è previsto per le 16.30, seguirà il breve pellegrinaggio giubilare verso la Chiesa di Sant'Agostino. Alle 18 si terrà la solenne celebrazione eucaristica preseduta da Don Antonino Rivoli, vicario generale della diocesi di Piazza Armerina, e alle 20.30 una veglia di preghiera animata dai giovani che sarà preseduta da Don Lino di Dio, rettore della Chiesa. Domani alle 9 e alle 11 celebrazione eucaristica e alle 11.30 Santo Rosario in onore di Santa Rita e la supplica con il congedo. Dopo ogni funzione liturgica sarà possibile venerare la reliquia della Tamaturgica Santa di Cascia, esempio di misericordia e di perdono. Adesso torniamo ad occuparci della vicenda legata allo sfratto dell'Arcile Nuvole, prese di posizione da parte del Movimento 5 Stelle e della CGL. Vediamo. Il Comune di Gela ha deciso di porre fine all'esperienza del Centro Socioculturale Ingresso Libro di Via Maurizio Ascoli. La Giunta ci caccia da quel luogo per motivi burocratici. Si accorta dopo 10 anni che non è stato mai predisposto il contratto di comodato d'uso dei locali. E mentre la città è in ginocchio, il Comune chiude i luoghi di aggregazione. Un gesto sicuramente non costruttivo. Il pensiero manifestato ieri dalla responsabile locale di Arcile Nuvole, Luciana Garfi, ha scatenato diverse prese di posizione, sia dal mondo politico che da quello sindacale. Il Movimento 5 Stelle sottolinea che è giusto fare controlli sulle associazioni presenti in città al fine di avviare gli accertamenti su ogni affidamento di pubblico immobile, ma non devono esserci associazioni di serie A e di serie B. Bisogna seguire, dicono i pentastellati, un principio univoco, quindi fuori tutti con immediata pubblicazione di un bando che selezioni sulla base di criteri oggettivi, nel rispetto delle norme. Invece l'amministrazione colpisce il mondo dell'associazionismo senza avere mai presentato un regolamento per l'affidamento degli immobili e senza avere mai predisposto un bando per selezionare chi potrà ricevere quegli immobili. L'amministrazione forse vuole continuare sulla vecchia strada seguita in passato, fuori alcuni per lasciarne altri. Infatti, dicono i grillini, appare strano che siano stati inviati i provvedimenti di sfratto ad alcune associazioni e nel frattempo si sia assegnato ad un'associazione sportiva senza alcun bando la tensostruttura di Macchitella, con una procedura a dir poco originale, ma decisamente lontana dall'evidenza pubblica. Mentre solo alcune associazioni vengono colpite dal provvedimento di sfratto, il sindaco in conferenza dei capigruppo, sollecitato proprio dal Movimento 5 Stelle, dichiara che intende creare una casermetta delle associazioni che svolgono attività di protezione civile iscritte in appositi albi regionali. Ecco che riappare una logica lontana dalla selezione ed evidenza pubblica, ma legata solo a scelte discrezionali dell'amministrazione. Respingiamo questa logica e diciamo subito che il mondo dell'associazionismo senza scopo di lucro, quello vero, va tutelato. Purtroppo questa amministrazione, chiude il Movimento 5 Stelle, ha scelto la strada della pessima continuità amministrativa. Ed oggi, ad esserne colpita, è la parte più bella della città, il mondo dell'associazionismo volontario. Ed Ignazio Giudice, segretario generale della CGL, pone alcune domande. Se la lettera è stata inviata a tutte le associazioni, significa che tutte non hanno meriti per utilizzare i locali del comune? Lo stesso ente cosa ha pensato di fare in quei locali? Qualcuno di noi può ritenere ininfluente e fastidiosa l'azione volontaria, costo zero per la comunità, che le associazioni producono in ambito sociale, culturale e artistico? L'amministrazione, dice Giudice, deve agire nella consapevolezza delle azioni amministrative e le stesse non devono creare conflitto sociale. Lo stesso conflitto che tante associazioni in questi anni hanno cercato di sedare, curare, facendo sorgere energie positive dal nulla. Giudice si appella al cuore degli amministratori per riflettere sulla scelta, sospendere le lettere inviate, rinegoziare il rapporto con le associazioni e prevedere una premialità per chi merita attenzione. La città, dice Giudice, ha bisogno di ascolto, non di conflitti. Lunedì 17 ottobre alle 17, il sindaco di Gela, Domenico Messinese, sottoscriverà una convenzione con la Società di Servizi di Tutela Legale e Finanziaria, Presidium, per contrastare la crisi da sovraindebitamento delle piccole e medie imprese gelesi. L'intesa prevede l'istituzione di uno sportello di sostegno e tutela per imprenditori, commercianti, artigiani e professionisti sulla base della legge del 2012 per la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti. Adesso apriamo la pagina della cronaca giudiziaria e vi riferiamo di arresti e denunce eseguiti a Gela. Vediamo. E di due persone arrestate e di sei denunciate a piede libero il bilancio di un'attività anticrimine e di polizia giudiziaria ed amministrativa della locale commissariato avviata negli ultimi giorni a Gela. Controlli anche nei locali della Lungomare e del centro storico. Francesco Morteo, 52 anni, è stato ammanettato in ottemperanza al provvedimento di rideterminazione dell'ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica di Caltarissetta. L'uomo deve scontare 7 anni, 11 mesi e 3 giorni per delle condanne a residue. Arresti domiciliari per Giuseppe Ivan Brivitello, di 29 anni. L'ordinanza è stata emessa dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Caltarissetta. Il 29enne deve spiare un anno, 10 mesi e 20 giorni per rapina, furto e stupefacenti. Un ragazzo di 21 anni è stato segnalato alla Prevettura di Sena per possesso di quasi 40 grammi di marijuana rivenuta durante una perquisizione. Lo stupefacente era celato sotto il sellino del ciclomotore. Agli agenti, il giovane ha dichiarato che era per uso personale. Una ragazza di 26 anni è stata deferita per danneggiamento seguito da incendio e minaccia. Una sua coetanea è stata deferita per danneggiamento. Una 34enne dovrà rispondere invece di porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Lesioni personali e l'accusa mossa ad un uomo di 47 anni. Una 41enne è stata deferita all'autorità giudiziaria per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. L'ufficio della Polizia Amministrativa e Sociale ha eseguito controlli ai locali di intrattenimento. Ispezionate tre attività, elevate due infrazioni e controllate 29 persone. Sono più di 100 le persone che quest'anno hanno aderito all'ottavo campo scuola per diabetici. Un obiettivo importante raggiunto dall'associazione. Vediamo. Si svolgerà fino a domani nei locali del Sicania Resort a Tenutella il campo scuola dedicato a tutte le persone che soffrono di diabete ai loro familiari e ai loro amici. L'iniziativa è promossa come ogni anno dall'Ade, l'associazione diabetici Eschilo, presieduta da Giuseppe Curatolo. Ieri il primo incontro alla presenza di diversi esperti che in funzione di docenti per le singole competenze hanno preso parte alla prima della tre giorni. Anche quest'anno probabilmente c'era la possibilità di non essere fatto perché ho subito diversi problemi di salute e quindi già che un direttivo l'abbiamo fatto nella stanza dell'ospedale di Gela e con il direttivo siamo rimasti che anche se io non stavo tanto bene loro erano nelle condizioni di poterlo portare avanti. Dopodiché, grazie a Dio, mi ha dato la possibilità di essere già in forma e quindi stiamo svolgendo questo nono campo scuola che effettivamente vi posso dire che non pensavo che doveva avere questa grossa partecipazione. Abbiamo superato le 100 persone, fra giovani e adulti siamo a 110, mai raggiunto 70, 80, ma anche qui al Resort si sono meravigliati per tutte le stanze che abbiamo occupato. Un obiettivo importante ma tanti altri da raggiungere. Speriamo di sì. Io dicevo proprio al direttivo, attenzione ragazzi, io non è che sono un'età a rischio, quindi cominciate a lavorare voi altri in modo che io piano piano mi posso pure, in modo da non far morire questa associazione, questo evento, anzi vi posso dire che qui probabilmente ci sarà un altro specialista che parlerà degli aslomizzati. E diverse sono state le eccellenti professionalità presenti al congresso con le loro relazioni. Li sentiamo. Questo congresso importantissimo sul diabete non può non riguardare anche la figura del pediatra? Sì, perché in effetti il diabete, come voi sapete, è una patologia che colpisce sia l'adulto sia il bambino. Il bambino è colpito soprattutto dal diabete di tipo 1, insulino dipendente, anche se stiamo vedendo che nel corso degli anni un spostamento verso il diabete di tipo 2 legato probabilmente ad una cattiva alimentazione e quindi lo spostamento verso l'obesità che sono fattori interconnessi tra l'obesità, la cattiva alimentazione e l'insulenza anche di diabete di tipo 2 che è quello non insulino dipendente. Noi ci occupiamo di queste cose proprio perché rientrano nell'attività della pediatria di famiglia ma anche della pediatria ospedaliera. Dottoressa, purtroppo questa è una patologia che non riguarda soltanto o i bambini piccoli o gli adulti ma riguarda anche una fascia di età peraltro molto delicata che è quella dell'adolescenza. Sì, quest'anno soprattutto abbiamo avuto diversi esordi, i medici di famiglia, i pediatri, ne sono anche testimoni tra primavera e l'estate, anche durante le attività estive dei Grest abbiamo registrato degli esordi di diabete di tipo 1 negli adolescenti e negli giovani adulti. In questo senso dobbiamo dire che l'associazione ADE è stata visionaria col suo presidente nel concepire un intervento di team, un intervento che contemplasse anche l'intervento psicologico sia nella fase di accoglienza della diagnosi con tutto quello che comporta che nella fase proprio della cura e del mantenimento dei risultati perché il ruolo delle emozioni e dei comportamenti e delle dinamiche familiari hanno un'incidenza molto importante verso una buona gestione della condizione diabetica. Un altro appuntamento importante organizzato dall'ADE, lei è uno specialista, uno torino e anche per quanto riguarda la sua specializzazione ci sono delle implicazioni con la patologia. Sì, volevo rimarcare l'importanza che il diabete esercita sull'udito, il diabete agisce pesantemente sull'udito questa è una complicanza poco conosciuta, misconosciuta del diabete ma partendo dal principio che il diabete determina alterazioni vascolari dei piccoli vasi quindi microangiopatia, dei grossi vasi, macronangiopatia e del nervo chiaramente agisce pesantemente anche sull'orecchio, organo altamente vascolarizzato e riccamente innervato. Infatti l'Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia ai soggetti diabetici proprio per questa interferenza forte del diabete questa alterazione che il diabete determina sulla perdita uditiva dicevo consiglia di sottoporsi almeno una volta all'anno ad un esame della funzionalità uditiva. Ottobre è il mese della prevenzione per il tumore al seno tutte le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni possono recarsi all'ospedale di Gela il martedì, il giovedì e il venerdì dalle 15.30 alle 17.30 per sottoporsi alla mammografia gratuita è l'invito che tramite la sua pagina Facebook grazie a Lobello, presidente di ADOS, l'associazione donne operata al seno rivolge a tutte le donne affinché si sottopongano ad un controllo preventivo. Enedicola il Corriere di Gela, settimanale indipendente di attualità politica cultura e sport a diffusione comprensoriale fondato e diretto da Rocco Cerro salta il tappo sulla gestione rifiuti e il titolo dell'apertura del giornale che dedica un ampio servizio in prima pagina sull'inchiesta bollente avviata dal procuratore capo di Gela Fernando Asaro, al momento due indagati ma l'indagine è soltanto all'inizio. Altro argomento che torna ad attualità la vicenda a Groverde sull'orlo della banca rotta il Comune vuole soldi della fideiussione per pagare proprietari delle aree spropriate una brutta gatta da appelare. Giulio Cordaro nella sua rubrica settimanale ironizza sul modo spicciolo di liquidare le questioni più scottanti da parte della politica Zaira Placenti incontra Sara Cavallo consigliere comunale controcorrente del Movimento 5 Stelle il giornale ricorda poi quando Dario Fo premio Nobel del 1997 scomparso in settimana venne due volte a Gela nei primi anni 70 recitò al teatro comunale e comiziò in piazza e davanti ai cancelli della fabbrica all'interno poi articoli di attualità e cultura c'è la pagina delle aste giudiziarie e lo sport con le finestre sul Gele e sul Terranova a cura di Orazio Accomando e Zaira Placenti in ultima pagina come sempre gli annunci economici gratuiti noi ci fermiamo c'è la pubblicità tra poco restate con noi Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale anche quest'anno la pubblica assistenza Procivis Protezione Civile organizza un corso per soccorritori di livello avanzato per il servizio sulle ambulanze è possibile recarsi presso la sede di via Ossidiana numero 23 per iscriversi e avere informazioni in merito alla formazione per essere abilitati al servizio di soccorritore sulle ambulanze il corso si svolgerà il martedì e il giovedì dalle 19 alle 21 sono 40 gli appuntamenti previsti e 75 le ore di tirocinio obbligatorie le lezioni saranno tenute da personale medico paramediche e da soccorritori esperti il corso comprenderà lezioni teoriche, pratiche e un periodo di tirocinio la segreteria della pubblica assistenza Procivis è a disposizione da lunedì al venerdì dalle 16 alle 20 per informazioni è possibile contattare anche la centrale operativa al numero 0933 93 83 12 oppure si può inviare una mail a p.a.procivis.tiscali.it 4 persone su 10 in Sicilia secondo gli ultimi dati Svimez sono a rischio povertà il 72% dei lavoratori non riesce a raggiungere il 40% del reddito medio regionale l'economia è in una fase critica di stagnazione ed è stato raggiunto il primato per la povertà educativa dinanzi a questo scenario preoccupante 20 associazioni hanno aderito formalmente all'alleanza contro la povertà Sicilia che si è costituita a Caltarissetta l'intento è quello di reagire all'immobilismo delle istituzioni a fronte dell'aumento dei poveri così come ha ribadito ai nostri microfoni il presidente regionale delle ACLI Stefano Parisi associazione che ha aderito all'alleanza anche in Sicilia si è riunita l'alleanza contro la povertà proprio a livello regionale oltre 20 associazioni hanno aderito e altre si stanno avvicinando a questo nostro progetto a livello nazionale già l'alleanza contro la povertà ha raggiunto obiettivi importantissimi è stata fondamentale la nostra presenza ad esempio per la stesura di alcune norme per la lotta contro la povertà e per il reddito di inclusione sociale già queste norme, queste leggi sono state vagliate la Camera dei Deputati adesso sono all'esame del Senato e quindi la stessa cosa vogliamo fare in Sicilia vogliamo diventare interlocutori primari con le istituzioni perché purtroppo ancora oggi in Sicilia il tema della povertà non è stato ancora affrontato in maniera incisiva ci sono fondi immensi per poter combattere le nuove povertà che sono quelle tra l'altro più devastanti e purtroppo c'è una fase di stagnazione che noi non intendiamo più accettare ed è per questo che è iniziato questo percorso che ci porterà ad interloquire direttamente con gli assessorati competenti e con il Governatore della Regione intanto è previsto un incontro nuovamente regionale per definire lo statuto e regolamenti regionali e quindi dare una contezza a quello che stiamo facendo e leggendo gli organi dopodiché a livello tecnico già ci sono due incontri con gli assessorati competenti uno il 13 ottobre a Palermo e l'altro il 14 ottobre a Catania in cui si parlerà della SIA e noi saremo presenti per offrire il nostro contributo Per ricordare Salvatore Zuppardo a 18 anni dalla sua scomparsa dopo i grandi successi delle precedenti edizioni del Premio Nazionale di Poesia La Gorgone d'Oro il Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana Salvatore Zuppardo indice organizza la 17esima edizione del prestigioso premio Per informazioni c'è un numero di telefono 0933 93 74 74 Adesso c'è la pagina dello sport parliamo di calcio Gela domani di scena Castrovillari obiettivo 3 punti per la formazione biancazzurra vediamo Si gioca in terra di Calabria contro un Castrovillari che naspa nei bassi fondi della gradutoria con soli 3 punti Quale migliore occasione per riassaporare il gusto della vittoria per il Gela dopo l'inominata sconfitta di domenica scorsa in casa con la capolista Ige Virtus un KO che ha interrotto un filotto di risultati utili consecutivi da quando è cominciato il campionato di Serie D I biancazzurri sanno che la gara di domani è da vincere a tutti i costi bisognerà solo non ripetere i due errori due di domenica al Presti che alla fine hanno determinato il risultato La partita di domenica è stata una partita molto particolare dove il primo tempo siamo stati molto molto bravi a schiacciarli nella loro difesa però non siamo riusciti a concretizzare questo poi ci ha portato al 44esimo a subire un gol ha fatto l'1-0 l'Ige si è messa per loro molto bene la partita poi il secondo tempo abbiamo cercato di rimediare ma purtroppo nel calcio si sa quando sprechi tante energie e poi ti trovi sotto 1-0 può succedere pure che prendi il secondo gol quindi è andata così domani dobbiamo fare di tutto per portare a casa i tre punti sia per noi ma soprattutto per la città il morale però non è sotto i tacchi nonostante la sconfitta perché il gelo in questo campionato vorrà divertirsi il morale serve perché dopo un filotto di partite dove non perdevamo la sconfitta è arrivata in casa in maniera così in volso particolare quindi diciamo una vittoria domani ci porterebbe un po' a stare un po' più tranquilli e più sereni domani a Castrovillari non sarà presente l'Ucraino Kosovan squalificato per un turno dal giudice sportivo non ci sarà neanche Alma sicuro l'impiego dal primo minuto di Bonanno chiunque sarà della gara dovrà dare il 100% l'obiettivo nostro è quello prima di tutto di arrivare alla salvezza poi quello che viene è tutto un divertimento che può rendere può portare entusiasmo può portare sempre cose positive però diciamo che il primo obiettivo è la salvezza arrivando alla salvezza poi vediamo gli altri obiettivi quali sono ma vi fa sudare tanto il tecnico inventino? il mister ci fa allenare bene ci fa stare sereni ci fa stare tranquilli e noi facciamo di tutto per stare a quello che dice il mister e portare a casa i risultati anche domani a Castrovilla risale presente una folta delegazione di tifosi biancazzurri siamo all'informazione cinematografica appuntamento col cinema all'antidoto di Gela è in proiezione il film Go With Me sono due gli orari della programmazione 19.30 e 21.30 è scattata la campagna abbonamenti per la stagione teatrale 2016-2017 all'antidoto di Macchitella Gela il cartellone che comincerà il prossimo 23 novembre prevede tra gli altri l'esibizione di Pippo Franco per informazioni bisognerà rivolgersi ai numeri di telefono 338-7143-293 oppure 330-225-442 ce n'è ancora un altro 093-82-27-07 l'abbonamento intero costerà 70 euro 55 euro invece ridotto per i giovani è una nuova stagione teatrale anche all'eschilo di Gela dall'8 novembre prossimo in scena i più grandi artisti italiani del teatro e della televisione Gabriele Garco Ugo Pagliai Raimondo Todaro Marco Bocci Maria Angela D'Abraccio Enrico Guarneri Tuccio Musumeci Marisa Laurito Gianfranco D'Angelo e ancora Barbara Bouchet per informazioni bisognerà recarsi in teatro ogni giorno dalle 10 alle 12.30 dalle 17 alle 20 ci sono anche dei numeri di telefono ai quali si potrà chiamare 0933-911 892 oppure 345-5880 580 il prezzo dell'abbonamento è di 90 euro bene tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito fin qui a tutti voi un buon fine settimana arrivederci a tutti i Grazie a tutti